È un viaggio molto profondo, molto introspettivo, con questa metamorfosi anche molto dolorosa, molto sofferta, metamorfosi che il 90% di noi è costretto prima o poi ad affrontare nella propria vita e quindi anche a cercare di aprire gli occhi sul mondo reale, o almeno è quello che uno si augura. Ti chiederei subito qual è la genesi del tuo romanzo. Metamorfosis è una storia che scaturisce soprattutto dalla mia esperienza personale, la mia esperienza di vita, anche però dalla mia passione per l'horror, come diceva Serena, appunto soprattutto il body horror, quindi Cronenberg con Spider, che credo abbia ispirato la stessa copertina di questo romanzo. Amo questo tema, il tema del cambiamento, della trasformazione, della metamorfosi, che sostanzialmente è proprio un cambiamento che avviene sia nella forma che nella sostanza. Mi piace chiedermi cosa possa accadere quando questo cambiamento appunto avviene da entrambe le parti. È un romanzo questo ispirato ad una storia a fumetti che ho letto su un vecchio numero di Tates from the Crypt, il titolo era Pipistrelli nel mio campanile, e questa storia narrava di un attore che perdeva l'udito e all'improvviso quindi vedeva crollare la propria carriera, crollare i propri miti, anche i propri dei in un certo senso. Non a caso il tema della morte di Dio è un'altra questione che torna nel romanzo. Nietzsche è un po' dappertutto in questo romanzo, anche se non è mai citato direttamente. Infatti io credo che una volta acquisita la consapevolezza del Pantarei eracliteo, che è spesso citato nel romanzo, questo inequivocabilmente faccia anche crollare tutti gli dei che noi abbiamo costruito con il tempo. Infatti come si può credere in qualcosa di assoluto, qualcosa di stabile, una volta che si comprende qual è veramente la realtà, e quindi che la realtà è mutevole, tutto si trasforma, tutto finisce, anche se poi rinasce. E quindi questa metamorfosi che in un certo senso mescola l'uomo e la bestia, forse è utile per ritrovare quella parte atavica di noi, e quindi quella componente che ci lega alla terra e forse proprio all'istinto primordiale, che ci consente di vedere le cose per come sono realmente, quindi nude e completamente viscerate da tutte le sovrastrutture che siamo noi stessi a tirare su.